Oggi vi voglio parlare di un libro di architettura che mi piace un sacco anche già solo per il titolo Icebergs, Zombies and the Ultra Thin Iceberg, Zombie e gli Ultrasottili con un sottotitolo che recita architettura e capitalismo nel ventunesimo secolo è un libro di Matthew Souls e parla del modo in cui a partire dagli anni Ottanta gli edifici siano diventati sempre di più uno strumento per accumulare ricchezza quindi un investimento e che quindi sempre di meno rispondono a quelle che sono le esigenze abitative delle persone che vivono in quella zona tra i tanti diversi modelli individuati che riflettono questo nuovo atteggiamento appunto i tre del titolo sono abbastanza interessanti cominciamo con gli Iceberg cosa sono gli Iceberg? sono edifici che per ovviare ai limiti dei vari piani regolatori di città come Londra la gente che ha un sacco di soldi compra un pezzo di terra e poi costruisce una piccola casa sopra, un piccolo appartamento e poi il resto avviene sottoterra appunto come gli Iceberg ci sono delle vere e proprie case di estremo lusso e questo tipo di costruzione viene chiamata il trogloditismo di lusso e qual è il problema? il problema è che spesso queste vengono costruite e una volta che si scava e si scava per un sacco di spazio in profondità e in larghezza sottoterra potete ben capire quello che succede e che le case circostanti diventano sempre meno solide quindi si provocano dei crolli l'altro fenomeno del titolo è quello degli ultra sottili e questo si spiega da solo sono torri altissime dove la proprietà viene distribuita a scatole cinesi e quindi è anche molto difficile sapere a chi appartengono e hanno la caratteristica di rimanere quasi sempre tutti sfitti perché non sono veramente costruiti perché la gente ci abiti ma semplicemente ripeto come investimento e quello di queste torri ultra sottili porta a un altro fenomeno che è quello dello zombismo cioè questi palazzi altissimi e giganteschi che però sono quasi sempre vuoti appunto perché non ne frega niente a nessuno che siano costruiti in modo che la gente ci possa andare ad abitare e quindi questo cosa porta? porta a intere aree urbane vuote, disabitate e questo ha un fortissimo impatto sia sul tessuto urbano che sul tipo di servizi che vengono offerti nella zona oltre che alla vivibilità sono sicurissima che se vi guardate intorno in qualsiasi grande città anche voi potrete individuare le zone zombificate